Eccoci al terzo piano di questa palazzina del centro, il cuore della città, andiamo ad affacciarci sull'ascensore, eccolo qui. Entriamo all'interno dell'appartamento, un appartamento non di recente costruzione ma in ottimo stato, che ha ricevuto la dovuta manutenzione durante tutti gli anni, un grande salone, molto luminoso, la caratteristica di questa casa sicuramente è la luminosità, considerato che poi oggi non è nemmeno una giornata soleggiata. questo grande salone che poi affaccia su una terrazza, una delle due, qui siamo dal versante del terminillo e qui c'è questo ripostiglio molto gomodo dove ad esempio la signora fa il cambio della stagione e tiene tutte le scarpe, termosifoni in alluminio e andiamo a visitare l'altra parte della zona giorno, che è questa cucina abitabile, molto accogliente, con camino. qui abbiamo l'altra terrazza che invece si affaccia a sud e anche qui c'è questo angolo ripostiglio che ci consente di mantenere sempre tutto in ordine e di avere comodità. Qui abbiamo la caldaia, proseguiamo per andare a visitare la zona notte, disimpegno che ci conduce nelle tre camere da letto, due camere leggermente più piccoline, possiamo dire che invece anche questa è sicuramente matrimoniale, un bagno di servizio , un bagno di servizio E il bagno con la vasca. Bene, io vi do appuntamento per una visita sul posto. Grazie per la visione.